Via, il rosso, il gran finale, Dr. Krafen, Dr. Morte, stupendo, boffo, e via, è un altro uomo, un mostro, un dottore. Il capello vuole dentro però. No, non è ancora arrivato nessuno. Perfetto. Così è impossibile che tu riesca ad abbottonare l'ultimo. Bello il capello dentro, fantastico. Ecco. Eh sì, è quello ci vuole. Eccolo, Dr. Morte. Tire la fascia blu. Il legaccio. E poi... Ecco qua, signori, a voi, Dr. Morte. Grazie. 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 Grazie.